Vai! Buonasera a tutti e ben ritrovati anche questo martedì con Scienze in pigiama. Questa settimana avremo due appuntamenti, due appuntamenti molto importanti. Oggi con il dottore Albino Carbognani, tra un po' ne parleremo, lo presenteremo, e giovedì con Sandra Savaglio, che ci parlerà delle esplosioni più energetiche che abbiamo nell'universo. Ringrazio tutti quanti gli intervenuti, che vedo già che sono veramente tanti, passo subito, giusto per non perdere tempo, perché stasera avremo una conferenza veramente interessante, che tra l'altro a noi del Parco Astronomico Lirio ci riguarda veramente da vicino, visto che uno dei nostri campi di ricerca che portiamo avanti è quello degli asteroidi e l'osservazione tramite delle camere dei meteoriti. Come vi dicevo, questa sera abbiamo il dottore Albino Carbognani, ricercatore dell'osservatorio di Loiano, di Bologna, quindi dell'INAF, che è uno sicuramente dei massimi esperti nazionali che abbiamo in ambito nazionale appunto di asteroidi e meteoriti, tra cui anche il programmatore, ce ne parlerà a lui, quindi del software che permette quindi di fare la triangolazione per poter osservare le meteore e scoprire dove vanno a cadere, quindi questo è il progetto Prisma dell'Istituto Nazionale d'Astrofisica. Grazie Albino per essere qui con noi questa sera, non ti voglio rubare ultimo tempo perché so che hai veramente una presentazione piena piena di contenuti, ci vediamo poi alla fine. Ricordo a tutti quanti che è possibile durante la conferenza quindi porre le proprie domande che poi verranno scelte alla regia, quindi li porremo alla fine al nostro relatore. Vi lascio in compagnia di Albino e ci vediamo dopo la conferenza. Albino, se attivi la presentazione, io te la mando in onda. Perfetto, allora te l'attivo, schermo 2, condividi, ok. Dovresti vederla. Perfetto, ci vediamo dopo la conferenza, a dopo. Ok, a dopo, grazie Antonino. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi, ringrazio il Parco Astronomico Liglio Antonino per avermi invitato, per avermi dato l'occasione di condividere una parte del mio lavoro e direi senz'altro di cominciare perché insomma è un tema appassionante in cui ci sono tantissime cose da dire, quindi spero in questa oretta che passeremo insieme di trasmettervi un pochino il clima che si respira nell'ambito dei corpi minori. Ecco, cominciamo subito con una serie di definizioni, tanto per mettere le cose in chiaro, magari tantissimi di voi sanno già che differenza c'è fra meteoroide, meteo, raboli, demeteorite, ma insomma, diciamo, per quelli che non lo sapessero, così cominciamo con il chiarirci le idee. Ecco, per meteoroide si intende un oggetto solido con dimensioni dai 10 micron a un metro che è in orbita attorno al Sole. Oggetti superiori al metro sono considerati gli asteroidi oppure le comete, poi ancora più grandi sono i normali pianeti in orbita attorno al Sole. Ecco, quando un meteoroide entra nell'atmosfera terrestre, e lo vedremo meglio più avanti quando parleremo dei bolidi, perde gran parte della sua energia cinetica che viene trasformata in energia luminosa per l'attrito con l'atmosfera, quindi si genera una scia di plasma che dal suolo vediamo come una scia luminosa, che è quella che gli astronomi chiamano la meteora. Quindi il meteoroide, cadendo nell'atmosfera, genera una scia di gas luminoso, di gas luminescente, il plasma, appunto, e questa è la meteora, che a seconda delle dimensioni del meteoroide può avere una durata più o meno lunga. Di solito le meteore classiche, quelle d'agosto, le Perseidi, hanno scie che durano una frazione di secondo. Se il meteoroide è più grande, invece, la meteora può avere una vita più lunga anche di diversi secondi o diverse decine di secondi. Ecco, se poi il meteoroide è abbastanza grande, quindi da qualche centimetro, qualche decina di centimetri, quindi un oggetto macroscopico, allora la meteora diventa molto, molto brillante, e in questo caso si parla di bolide, che può essere più o meno luminoso, quindi, diciamo, quando il bolide diventa più luminoso apparentemente del nostro Sole, allora si parla di superbolide, e ecco, in ogni caso, se qualcosa rimane dopo l'attraversamento dell'atmosfera e tocca il suolo, allora si parla di meteorite. Quindi, diciamo, il residuo del meteoroide dopo l'attraversamento dell'atmosfera, quella è proprio la meteorite, che è molto importante, perché di solito rappresenta un campione degli asteroidi, degli asteroidi Neer Earth, come vedremo fra poco, e quindi molto importante per i ricercatori che vogliono capire l'odovuzione, l'origine del nostro Sistema Solare. Ecco, chiarito questo punto, passiamo agli asteroidi. Asteroidi che rappresentano il residuo della formazione dei pianeti e dei loro satelliti, avvenuta circa 5 miliardi di anni fa. Dove si trovano nel nostro Sistema Solare gli asteroidi? Beh, sostanzialmente, diciamo, la stragrande maggioranza si trova fra le orbite di Marte e di Giove, quindi, diciamo, al confine fra i pianeti di tipo terrestre, Mercurio, Venere, Terra e Marte, e, invece, i giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettino. Quindi fa un pochino da spartiacque nel nostro Sistema Solare. E in questa diapositiva, vedete, quella fascia di colore rosa è la fascia principale degli asteroidi, appunto, dove trovate circa un milione di corpi. Un milione di corpi sono gli oggetti noti, con diametro che vanno da pochi chilometri ad alcune centinaia di chilometri. Il maggiore asteroide della fascia principale è Vesta, che ha un diametro medio di 550 chilometri, e poi c'è il pianeta nano, Cerere, che ha un diametro di 1000 chilometri, ma, diciamo, comincia già a essere un'altra classe di corpi. Qui vedete, nell'orbita di Giove, ci sono due nubi di asteroidi di colore giallo. Questi sono i troiani di Giove, che sono collocati nei punti Lagrangiani L4 e L5, che sono due punti di equilibrio del Sistema Giove-Sole, e il numero di asteroidi troiani, grosso modo, si stima che ce ne siano più o meno come quelli di fascia principale. Quindi, fra troiani di Giove e fascia principale, sono un paio di milioni di asteroidi. In ogni caso, diciamo, la massa complessiva della fascia è dell'ordine di una frazione di quella della Terra. Quindi non c'è abbastanza massa per formare un pianeta di tipo terrestre, ma comunque il numero di corpi che orbitano attorno al Sole è molto, molto più elevato dei classici otto pianeti, come si potrebbe pensare. Ecco, se immaginiamo di proiettarci verso il polo nord dell'eclittica, questo è quello che potremmo vedere. Questa è un'animazione che mostra i movimenti degli asteroidi della fascia principale, si vede il movimento dei pianeti, appunto, e ci sono i puntini rossi che invece sono gli asteroidi in Air Earth, di cui fra poco parleremo. Quindi vedete che, diciamo così, il grosso l'avete nella fascia principale, però la fascia principale non ha un bordonetto, non termina con l'orbita di Giove, in realtà, diciamo, sfuma nella nube di asteroidi in Air Earth, quelli che con le loro orbite hanno, possono avere una probabilità diversa da zero di collidere con il nostro pianeta. Più avanti poi vedremo quanto è diversa da zero questa probabilità. Ecco, per quelli che non hanno mai sentito parlare di asteroidi, vediamo come sono fatti concretamente questi corpi celesti. In questa immagine è una fotografia, diciamo, classica dell'asteroide 243 Ida, che, vedete, è un oggetto di forma irregolare, quindi, diciamo, la prima regola, gli asteroidi non sono sferici come i pianeti, sono troppo piccoli, e quindi le forze di stato solido non sono in grado di rendere sferico il corpo. Cioè, scusate, la forza di gravità non riesce a contrastare le forze di stato solido e quindi non riesce a rendere sferico il corpo. E infatti vedete che Ida ha un semiasse maggiore di 50 km e passa e un semiasse minore, trasversale, di 15-20 km. Quindi è un oggetto che assomiglia un pochino a una patata, grosso modo. E vedete che sulla superficie di questo asteroide si distinguono diversi crateri da impatto che sono quelle strutture circolari un pochino di tutte le dimensioni che vedete crivellare la superficie di Ida. E di fianco a Ida vedete che c'è un piccolo pallino rotondo, quello è un satellite dell'asteroide principale a un chilometro e mezzo di diametro, si chiama Dactyl e Ida fu proprio il primo asteroide binario ad essere scoperto nel lontano 1993 se non ricordo male. Questa è un'immagine della sonda Galileo mentre si dirigeva verso Giove. Ecco, osservando l'immagine di Ida si ha l'impressione che sia un corpo monolitico, un pochino diciamo un pezzo unico, ma in effetti gli asteroidi non sono tutti così, non sono delle immense rocce monolitiche che vadano nello spazio, anzi che vadano che sono in ordita attorno al Sole. In effetti se guardiamo un altro asteroide questo è proprio un NERERT Bennu che è l'oggetto della missione Osiris-Rex della NASA vedete che la struttura è completamente diversa. Questo è un asteroide molto più piccolo ha un diametro di mezzo chilometro e vedete che non ci sono crateri da impatto ma si vede benissimo anche da questa immagine è un'immensa un immenso accumulo di detriti è quello che si chiama un rubble pile quindi una struttura rubble pile vuol dire che i blocchi di roccia sono tenuti insieme legati l'uno all'altro dalla debole forza di gravità e quindi l'asteroide diciamo ha chiaramente subito un processo di evoluzione collisionale molto molto evidente. quindi mentre Ida ha subito delle collisioni sono state scavate dei crateri da impatto sulla superficie ma comunque l'asteroide è rimasto sostanzialmente integro ben nel suo lontano passato qualche miliardo di anni fa deve aver subito una collisione talmente catastrofica che l'ha spezzata in una miriade di frammenti che in parte si sono riaggregati a formare un corpo che però non è più quello originale ma un mix fra asteroide originale e l'asteroide che ha colpito bene. Ecco questo per farvi toccare con mano il fatto che nella fascia principale degli asteroidi quindi in quella zona di spazio tra Marte e Giove in cui abbiamo visto gli astronomi hanno scoperto circa un milione di corpi diciamo il meccanismo prevalente evolutivo degli asteroidi è proprio sono proprio le collisioni ok? Quindi non sono corpi con una geologia attiva come la Terra sono troppo piccole ovviamente quindi si raffreddano subito però le collisioni fra un asteroide e l'altro fanno evolvere questi corpi quindi li cambiano dal loro stato originale quindi immaginate la collisione di due asteroidi le collisioni in la fascia principale avvengono a velocità medie di circa 5 km al secondo quindi è una velocità di tutto rispetto ragion per cui questi corpi scontrandosi si spaccano si disintegrano scagliano possono scagliare nello spazio una miriade di frammenti e di solito sono pochi frammenti di grandi dimensioni e mano a mano che scendete nella scala delle dimensioni il numero dei frammenti aumenta in modo esponenziale quindi quando due asteroidi si scontrano vengono create una miriade di frammenti piccolini un po' meno di frammenti più grandi pochi frammenti macroscopici ok? chiaramente i frammenti che vengono scagliati con una velocità superiore alla velocità di fuga dei due corpi combinati insieme possono immettersi in orbita ideocentrica attorno al sole indipendenti e quindi diventare a loro volta dei piccoli asteroidi quindi è in questo modo che nella fascia principale con trascorrere dei miliardi di anni si sono creati tutta una serie di asteroidi di tutte le dimensioni tantissimi quelli piccoli un po' meno quelli un po' più grandi pochi i corpi ancora diciamo quasi originali come ad esempio Vesta ecco il fatto che durante le collisioni si creano numeri di piccoli asteroidi è proprio l'origine degli asteroidi che nella collisione gli asteroidi frammenti vengono scagliati in tutte le direzioni e dopo per mezzo per mezzo di due meccanismi che vedremo fra poco possono essere immessi in orbita che possono passare vicino all'orbita della nostra terra e quindi diventare dei near earth cioè degli asteroidi prossimi alla terra attualmente vedete in questa diapositiva che vi fa vedere alcune orbite degli asteroidi near earth che hanno una distanza con l'orbita della terra piccola quindi diciamo i migliori near earth possibili questi sono solo alcuni perché se avessimo dovuto disegnare le 25.000 orbite dei nea conosciuti il disegno sarebbe la diapositiva sarebbe diventata completamente azzurra ecco attualmente ne sono noti 25.000 che rispetto al milione di oggetti della fascia principale sono relativamente pochi ma in effetti abbiamo appena cominciato a scoprire la popolazione degli asteroidi nea in effetti se ne stima un numero che a seconda della dimensione limite che assumete può arrivare anche a diversi milioni di asteroidi tipo nea quindi diciamo abbiamo solo iniziato a scoprire la punta dell'ase ok ecco quali sono i due meccanismi che dalla fascia principale vi portano verso la terra e i pianeti interni verso il sistema solare interno beh sono due qui vedete in questa simpatica vignetta disegnata da Vincenzo Zappalà che lavorava all'INA Fosservatorio Astronomico di Torino vedete A e B A è l'asteroide singolo massiccio di fascia principale che incontra un asteroide B anche lui massiccio di fascia principale si scontrano collidono qui Zappalà la collisione l'ha rappresentata con i cuoricini e creano tanti piccoli frammenti questi piccoli frammenti oltre che alla forza di gravità del sole sono soggetti anche agli effetti della radiazione del sole sull'asteroide stesso quello che si chiama l'effetto Yarkovsky che è praticamente diciamo una modifica dell'orbita per effetto del fatto che l'asteroide si riscalda la luce del sole riemette nell'infrarosso e quindi si provoca una specie di effetto razzo però per effetto della luce che viene emessa quindi è una forza molto molto debole che agisce solamente sugli asteroidi più piccoli al di sotto dei 40 chilometri di diametro quindi l'orbita del frammento viene man mano modificata nel tempo e può succedere che questa orbita modificata vada in risonanza con Giove quindi andare in risonanza orbitale con Giove vuol dire subire ripetutamente delle perturbazioni gravitazionali da parte del pianeta gigante che si trova appena al bordo esterno della fascia principale non a caso e l'orbita può essere modificata perturbata violentemente da Giove e quindi diciamo l'asteroide il frammento può essere espulso verso il pianeta e il sistema solare interno e quindi verso il nostro pianeta infatti vedete nei punti F e G di questa vignetta che i frammenti arrivano in prossimità della terra e la terra non è per niente soddisfatta di questi incontri ravvicinati con i frammenti delle collisioni che avvengono nella fascia principale ovviamente il processo non è immediato quindi dalla collisione all'arrivo su un'orbita in prossimità della terra possono passare quella decina di milioni di anni però comunque diciamo sui 5 miliardi di anni di vita che ha il nostro sistema solare capite che il flusso di detriti di frammenti di piccoli asteroidi dalla fascia principale al sistema solare interno è praticamente continuo ecco cerchiamo di vedere un attimino che cosa sappiamo della popolazione dei neo ecco qui ho preparato una serie di diapositive che ci fanno capire come siamo messi nel processo di scoperta della fascia degli asteroidi in EARET ecco questa è una diapositiva la prima che vi fa vedere il numero cumulativo delle scoperte quindi il numero totale di asteroidi scoperti in funzione del tempo e ci sono tre colori il rosso l'arancione e il blu in rosso sono segnati gli asteroidi con diametro superiore al chilometro in arancione gli asteroidi con diametro superiore a 140 metri e in blu infine tutti gli asteroidi NEA scoperti allora vedete che le scoperte della popolazione dei NEA cominciano sostanzialmente attorno all'anno 2000 ok all'epoca quindi diciamo una ventina di anni fa gli asteroidi NEA noti erano circa un migliaio e grosso modo circa il 40% erano oggetti di grande diametro quindi diciamo le prime scoperte per questa classe di asteroidi sono stati proprio gli asteroidi maggiori voi vedete che con il passare del tempo la fascia rossa non continua a salire ma si stabilizza quindi va in saturazione quindi vuol dire che tutti gli asteroidi con diametro maggiore di un chilometro sono stati scoperti e invece la cosa è molto diversa per gli asteroidi con diametro superiore ai 140 metri o per gli asteroidi NEA di tutte le dimensioni qui vedete che le fasce arancioni e azzurre crescono con il tempo e in particolare cresce molto rapidamente diciamo la fascia azzurra ok quindi vuol dire che con il passare del tempo con l'aumentare dell'efficienza delle survey si scoprono sempre più oggetti sempre più piccoli e sempre più numerose ecco come sono distribuiti i diametri beh abbiamo questo grafico che ce lo fa questo istogramma che ce lo fa capire abbastanza bene sono circa un migliaio gli oggetti gli asteroidi NEA con diametro pari o superiore al chilometro qui i diametri sono in metri quindi quelli sono praticamente tutti quindi come vi ho fatto vedere prima la popolazione di oggetti con diametro superiore al chilometro è praticamente stata scoperta e al momento diciamo il piccolo del diametro si trova nella classe fra i 30 e i 100 metri quindi oggetti relativamente piccoli oggetti grosso modo nella classe degli asteroidi che possono provocare una catastrofe paragonabile a quella di Chimbusco come vedremo un pochino più avanti ecco invece vedete che nella range 0-30 metri 0-1-30 metri gli asteroidi invece sono molti di meno ma questo è un effetto di selezione perché perché gli asteroidi sono oggetti opachi sono mediamente molto scuri infatti avete visto prima le immagini di Benno e di Ida che hanno queste superfici in particolare Benno ha una superficie molto scura un asteroide primitivo sotto questo punto di vista Ida è già un asteroide di tipo S quindi ha una riflettività un pochino più elevata ma comunque in generale gli asteroidi riflettono poco la radiazione del Sole e essendo anche oggetti piccoli è difficile vedere gli asteroidi di qualche decina di metri di diametro li potete osservare solamente quando passano in prossimità della Terra quando sono a pochi milioni di chilometri o poche decine di milioni di chilometri dal nostro pianeta quando sono più distanti sono del tutto invisibili anche usando grandi telescopi quindi questo è il motivo per cui in questa distribuzione avete un picco fra i 30 e i 100 metri invece dai 30 metri in giù che sono molto più numerosi fate fatica a scoprirli proprio per questo effetto di selezione quindi ci sono dei bias osservativi e in ogni caso però vedremo che è importante la scoperta anche degli oggetti di piccolo diametro quindi gli asteroidi di 300 100 200 metri di diametro pur essendo oggetti piccoli possono essere molto pericolosi per la Terra perché le collisioni con il nostro pianeta avvengono a velocità di decine di chilometri al secondo quindi un'alta energia cinetica che si trasforma in calore in pochi istanti e questo provoca diciamo degli effetti devastanti di cui dopo vedremo qualche esempio ecco qui invece vediamo un pochino a chi dobbiamo la scoperta degli asteroidi in error cioè quali sono i telescopi che trainano il carretto beh negli anni a partire diciamo dagli anni 2000 ci sono state diverse survey che si sono date il cambio diciamo le caratteristiche di un telescopio da survey sono il grande campo di vista ok e il diametro del telescopio che deve essere il più grande possibile ma diciamo il parametro dominante per scoprire gli asteroidi near earth è proprio il campo di vista del telescopio più è grande e più avete probabilità di scoprire nuovi asteroidi di questo tipo perché beh perché a priori non sapete dove saranno osservabili in cielo durante il loro passaggio ravvicinato con la terra quindi dovete spazzare continuamente la volta celeste in modo tale da rilevare il movimento di questi piccoli oggetti e dopo faremo in diretto un piccolo esperimento che ci permetterà di capire proprio come vengono scoperti materialmente gli asteroidi cioè come si fa in pratica quando siete al telescopio ecco quindi qui vedete in questo istogramma ai primi anni 2000 la survey che trainava il carretto nella scoperta degli asteroidi era linear dopodiché negli anni ha perso efficienza e invece dal 2005 in avanti la parte del leone la fa la Catalina Sky Survey si trova a Tucson in Arizona e ha due telescopi che vedete raffigurati in questa diapositiva sotto all'istogramma che sono uno Schmidt da 68 centimetri di diametro il famoso 703 nel codice del Minor Planet Center e il G96 che è un telescopio un pochino più grande un castegren da un metro e mezzo di diametro a partire dal 2010 ha cominciato ad avere diciamo un certo peso nelle scoperte anche Panstars il famoso F51 che vedete raffigurato in quell'immagine ha un metro e ottante di diametro e un enorme campo di vista e quindi questo gli permette di essere molto efficiente con le scoperte anche se vedete se la gioca con la Catalina Sky Survey ecco la cosa interessante è che Catalina e Panstars sono entrambi i survey statunitensi ok quindi diciamo al momento il contributo di tutti gli altri telescopi sparsi per la superficie terrestre è quel pezzettino marrone che vedete in cima all'istogramma quindi vedete che ha un contributo estremamente basso estremamente piccolo quindi al momento sono gli Stati Uniti che hanno passatemi il termine il monopolio nella scoperta degli asteroidi near Earth ok proprio perché investono tempo risorse e denaro in modo non trascurabile in questo tipo di attività è chiaro che come vedremo dopo maggiore è il numero di oggetti che scoprite maggiore è il numero di orbite che potete calcolare e quindi potete prevedere con un certo tempo di anticipo che più è grande e meglio è la probabilità di collisione con la Terra ecco chi si occupa di tirare un pochino le fila dopo la scoperta da parte di Panstars o della Caterina Sky Survey che fine fanno queste osservazioni beh vengono segnalate al Minor Planet Center che si trova a Cambridge presso lo Smithsonian Astrophysical Observatory e ha il compito di diciamo raccogliere le osservazioni dei Neo pubblicarli in quella che si chiama la Neo City Page cioè la pagina in cui vengono segnalati i potenziali Neo appena scoperti in modo tale che altri telescopi altri osservatori li possono osservare confermare oppure smentire e in ogni caso bisogna raccogliere dati sufficienti per un paio di giorni due tre a seconda dell'orbita più o meno complicata da definire così da poter assegnare una sigla provvisoria all'asteroide quindi potergli dare un identificativo e potergli assegnare un'orbita e quindi cominciare a calcolare le eventuali probabilità di impatto con la Terra è ovvio che l'orbita di un asteroide con 24 48 ore 72 ore di osservazioni potete definire l'orbita ma gli errori sono ancora grandi in particolare più passa il tempo è più difficile collocare l'asteroide lungo l'orbita quindi se passa troppo tempo da un'osservazione a quella successiva oppure se il tempo osservativo per determinare l'orbita è troppo breve non so 10 giorni un paio di settimane allora quell'asteroide dopo qualche anno sarà perso nel senso che non è che non sappiamo l'orbita l'orbita la conoscete ma non sapete esattamente dove sia l'asteroide lungo la propria orbita ok perché le piccole diciamo i piccoli errori di misura eccetera si propagano nel tempo diventano sempre più grande e a un certo momento la zona di incertezza diventa talmente ampia che non sapete esattamente dove puntare il telescopio a meno che non abbia un campo di vista molto grande per fare il ritrovamento dell'asteroide stesso quindi quando il NEA viene scoperto come ho detto in prossimità della Terra e bisogna osservarlo il più lungo possibile in modo da avere un arco temporale il più esteso possibile ok in modo da ridurre le incertezze sulla posizione dell'asteroide lungo l'orbita e quindi poter calcolare con una certa fideabilità qual è la probabilità di impatto con la Terra se c'è e se è diversa da zero ecco quindi è per questo che nella Neo City Page del Minor Planet Center vengono pubblicati tutti gli asteroidi NEA appena scoperti da confermare d'accordo? quindi le grandi survey diciamo così scoprano gli oggetti ma poi chi fa la conferma e diciamo ne determina la posizione astrometrica che verrà utilizzata per calcolare l'orbita poi sono tutti gli altri osservatori sparsi a tutte le latitudini e longitudini e in gran parte sono proprio gli astrofili gli amatori che fanno un lavoro di tracking molto importante perché se non ci fosse sarebbe diciamo potrebbe essere problemato ecco fra i telescopi che diciamo fanno conferme di asteroidi NEA Earth appena scoperti c'è anche l'osservatorio di Loiano diciamo da quando sono arrivato qui porto avanti anche questo tipo di osservazioni tra tutte le altre che devo fare quindi diciamo non è l'impiego prevalente del telescopio ma viene anche utilizzato per questo tipo di osservazioni in questa diapositiva vedete una foto del telescopio di Loiano a un metro e cinquantadue di diametro ed è il secondo telescopio funzionante più grande d'Italia quindi presente sul territorio italiano il più grande telescopio ve lo ricordo è il metro ottanta di Cima Ecar sull'altopiano di Asia ecco il telescopio è contenuto all'interno di questo edificio che è stato costruito nel 76 e ha un diametro della cupola di circa 12 metri ecco adesso utilizzando le immagini riprese con il telescopio Cassini cerchiamo di capire meglio come si scopre un nuovo asteroide uno si potrebbe immaginare va bene gli astronomi puntano il potente telescopio Pan Stars verso la sfera celeste e distinguono chiaramente sulla fotografia chi è un asteroide e chi invece è una stella di fondo ecco in realtà le cose sono un pochino più complicate di così perché sostanzialmente perché gli asteroidi sono oggetti piccoli ve l'ho detto prima e quindi anche quando passano il flyby con la terra a pochi milioni di chilometri comunque appaiono sempre come degli oggetti punti fuori ok quindi virtualmente se voi fate uno scatto singolo della sfera celeste non riuscite a distinguere fra stelle e asteroidi peraltro gli asteroidi riflettono alla luce del sole quindi anche spettroscopicamente hanno uno spettro simile a una stella di tipo solare ok quindi è difficile distinguere un asteroide in un campo stellare come questo che vedete nell'immagine ecco in questa immagine si trova un neo 2020 lk che è stato scoperto a giugno di quest'anno quando era 4 milioni e mezzo di chilometri dalla terra questo asteroide ha un diametro stimato di circa 75 metri però vedete che l'asteroide pur essendo presente qui nel campo di vista dello strumento non si distingue dalle stelle di campo non è l'oggetto brillante che sembra una patata allungata nel centro del campo di vista quelle sono semplicemente due stelle che appaiono vicine sembrano una specie di oggetto allungato ma in realtà non è quello l'asteroide quindi qual è il meccanismo che usano gli astronomi per scoprire i nuovi asteroidi quindi qual è il meccanismo che usa Pan Stars o la Catalina per scoprire nuovi asteroidi beh semplicemente bisogna riprendere due immagini dello stesso campo di vista a distanza di un quarto d'ora 10 minuti sovrapponendo le due immagini facendole blincare come si dice in gergo allora tutto quello che si è spostato diventerà visibile e in particolare si spostano gli asteroidi perché sono in orbita attorno al sole quindi le stelle restano fisse l'asteroide invece va avanti e indietro ecco quindi che vedete in questa immagine questa è un'animazione l'asteroide si trova in basso a sinistra è quel pallino che va avanti e indietro in rapida sequenza ecco in questo modo riuscite a scoprire i nuovi asteroidi questa è la tecnica classica che viene usata dal 1801 da quando Piazzi scoprì Cerere il primo gennaio del 1801 fino ad oggi è l'unico modo per distinguerli dalle stelle di foto bene quindi questo è un modo oppure c'è anche un altro metodo fare pose molto lunghe in modo tale che il movimento dell'asteroide si renda evidente perché l'asteroide muovendosi si è abbastanza luminoso lascia proprio una scia in cielo in effetti gli asteroidi venivano chiamate anche i vermi del cielo proprio perché nelle foto a lunga posa lasciavano questa traccia caratteristica ecco quindi questo diciamo il blink delle immagini è la tecnica classica per scoprire asteroidi quindi ovviamente non c'è l'astronomo che sta a guardare manualmente tutte le immagini a grande campo che vengono riprese da Pan Stars lo fa un software che automaticamente fa la detection dei possibili asteroidi eventualmente l'astronomo può controllare i casi che gli vengono sottoposti dal software e quelli che vengono effettivamente diciamo confermati visivamente vengono inoltrati al Minor Planet Center che a sua volta li pubblica sulla NeoCP e in questo modo tutti gli altri osservatori sono invitati a confermare l'esistenza di questi asteroidi solo dopo la conferma diciamo così riceverà la designazione e l'orbita ci sono diversi casi in cui si vede che non si tratta di Neo oppure possono essere errori di osservazione oppure possono essere sonde spaziali scambiati per Neo o pezzi space debris pezzi di satelliti oppure il caso recente 2020 SO che è stato un asteroide scoperto qualche mese fa che si è rivelato essere lo stadio di un razzo Atlas che aveva lanciato una sonda luna ad esplorare la luna insomma nel 1966 quindi ci possono essere diciamo dei falsi NEA che però vengono identificati grazie alle orbite si può capire se è uno space debris oppure no oppure semplicemente se è stato un errore dell'osservatore che ha segnalato delle cose che in realtà non esiste ecco in ogni caso quando un piccolo asteroide quindi diciamo un oggetto di diverse decine di metri di diametro entra in collisione con il nostro pianeta il risultato è la creazione di un cratere da impatto diverse decine di diametro di metri di diametro diciamo dai 100 metri in avanti facilmente avete la formazione di un cratere di impatto come questo qui mostrato in questa diapositiva che è il Meteor Crater in Arizona che ha un diametro di 1200 metri una profondità di quasi 200 e un'età stimata fra i 20.000 e i 50.000 anni ecco questo cratere in particolare è stato provocato dalla caduta di un piccolo asteroide metallico di circa 60 metri di diametro quindi diciamo un corpo ad alta coesione che ha attraversato praticamente indenne l'atmosfera ha colpito il suolo e ha liberato istantaneamente tutta la sua enorme energia cinetica e quindi è riuscito a incidere il suolo a scavare il cratere da impatto ecco questo nella storia della Terra è avvenuto innumerevoli volte se prendete una mappa terrestre e vi riportate la posizione dei crateri da impatto avete una rappresentazione di questo tipo ci sono circa poco meno di 200 crateri da impatto noti sulla superficie terrestre di tutte le dimensioni vedete nel golfo del Messico c'è il cratere di 250 km di diametro che è stato responsabile dell'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa ma vedete che ci sono crateri anche molto molto più grandi e molto più antichi distribuiti specie sulle masse continentali sulle masse continentali perché è più facile scoprirlo ovviamente rispetto al fondo oceanico però in ogni caso diciamo sulla nostra Terra avete circa 200 crateri da impatto che sono pochi sono pochi se considerate che sul nostro satellite naturale la nostra Luna nella sola faccia rivolta verso la Terra avete circa 300.000 crateri da impatto di diametro superiore al chilometro quindi un'enorme quantità di crateri da impatto che almeno si raddoppiano se considerate anche la faccia che non è visibile dalla Terra fate un conto tondo grosso modo avete un milione di crateri da impatto sulla nostra Luna quindi diciamo uno potrebbe anche pensare la Luna è stata particolarmente sfortunata rispetto alla Terra anzi ci ha liberato di gran parte degli asteroidi Nea Earth che erano diretti verso il nostro pianeta sto parlando da 5 miliardi di anni a questa parte quindi dovete considerare l'intera storia del sistema solare questi crateri il più giovane è Tico che ha un centinaio di milioni di anni sulla nostra Luna quindi sono strutture non recentissime però 100 milioni di anni fa è niente rispetto ai 5 miliardi di anni di storia del nostro sistema solare ecco perché questa differenza di crateri fra la Terra e la Luna beh sostanzialmente non è che la Terra è stata colpita da un minor numero di asteroidi ma semplicemente ha cancellato la gran parte dei crateri di impatto il nostro pianeta è un pianeta geologicamente attivo la crosta non è fissa si muove c'è la tetonica delle placche ci sono eruzioni vulcaniche c'è l'erosione atmosferica eccetera quindi tutti fenomeni che tendono a distruggere le strutture ad appianare le montagne e a riciclare la crosta quindi il nostro pianeta è un pianeta diciamo smemorato da questo punto di vista perché cancella i segni della sua storia mentre invece la Luna essendo molto più piccola è inerte dal punto di vista geologico e quindi tutti gli oggetti che cadono sul nostro satellite lasciano un cratere da impatto peraltro la Luna è anche priva di atmosfera quindi mentre la nostra atmosfera riesce comunque a disintegrare prima che tocchino il suolo gli oggetti con 10-20 metri di diametro che esplodono in atmosfera nel caso del nostro satellite essendo privo di questo scudo tutti gli oggetti anche più piccoli colpiscono la superficie e scavano un cratere da impatto per quanto piccolo possa essere ecco tenete presente che grosso modo tanto per avere un'idea il rapporto fra il diametro dell'asteroide che colpisce e il diametro del cratere che provoca è compreso fra 10 e 20 quindi un asteroide di un chilometro di diametro è in grado di scavare un cratere di 20 chilometri di diametro e ovviamente tutto il materiale contenuto nel cratere viene disperso in atmosfera quindi capite che la collisione di un asteroide con la superficie terrestre non è solo un problema per chi si trova malauguratamente nel punto esatto di caduta dell'asteroide ma è un problema per tutti perché i gas e le polveri immesse in atmosfera vengono portati in circolo dai venti e quindi in breve possono avviluppare la Terra e quindi creare un cambiamento climatico repentino ed è proprio un cambiamento climatico repentino quello che ha ucciso i dinosauri 65 milioni di anni fa ecco quindi gli asteroide sono un pericolo per la Terra perché effettivamente anche se sono piccoli possono colpire a grande velocità quindi possono liberare un'enorme quantità di energia cinetica migliaia di volte superiore a quella liberata nell'esplosione atomica di Hiroshima che si può prendere diciamo così come pietra di paragone visto che la vicenda dell'atomica di Hiroshima la conosciamo tutti come si stimano le probabilità di impatto beh dovete conoscere l'orbita ovviamente e dovete stimare se in un certo momento nel futuro l'asteroide è destinato a colpire o meno la superficie terrestre come si fa beh si può generare quella che si chiama una nube di asteroidi virtuali tutti compatibili con le osservazioni con l'orbita che conoscete del vostro asteroide e la propagate nel futuro ecco questa nube di asteroidi virtuali man mano che si propaga nel futuro si allarga si espande si allunga e un certo numero di cloni dei vostri asteroidi iniziali potrebbe colpire la terra quindi il rapporto tra gli asteroidi che hanno colpito la terra e il numero totale di asteroide della vostra nube vi dà la probabilità di collisione del vostro asteroide con la terra per diciamo misurare in modo quantitativo il rischio di impatto si usa la scala palermo ok che è chiamata così in onore della città palermo appunto che ha visto la scoperta del primo asteroide cerer appunto fatto da piazzi nel 1801 e detto r il rischio il grado della scala palermo corrispondente è il logaritmo in base 10 del rischio il rischio è un numero puro che è dato dal rapporto fra la probabilità di impatto del vostro asteroide che avete calcolato prima con gli asteroidi virtuali diviso la probabilità di impatto di fondo con un asteroide di dimensioni ecco se prendete il logaritmo di questo numero potete avere situazioni pericolose quando ps è maggiore di 0 oppure diciamo situazioni che richiedono attenzione quando il ps è compreso fra meno 2 e 0 ok quando è più piccolo di meno 2 quindi meno 3 meno 4 eccetera diciamo allora il rischio impatto è trascurabile e l'asteroide praticamente non è diciamo un problema per la Terra dove si trovano le informazioni che vi danno per ogni asteroide ne ha conosciuto il relativo rischio impatto nella scala Palermo beh avete diciamo due pagine pubbliche dove potete andare a vedere il primo è quella della NASA e il secondo invece quello di Space Dis qui in Italia sponsorizzato dall'università di Pisa dall'ESA eccetera che vi danno in tempo reale la rischio impatto nella scala Palermo a seconda dell'asteroide questa è una videata in queste diapositiva vedete una videata che ho preso poche ore fa quando preparavo la conferenza vedete che attualmente asteroide che hanno una probabilità di impatto compresa fra meno 2 e 0 sono solamente 2 1950 di A che non si sa esattamente dove sia e Bennu l'oggetto della missione Osiris Rex l'asteroide a forma di piramide a forma di rombo che vi ho fatto vedere vedete comunque sono valori abbastanza bassi meno 1 42 meno 1 69 poi tutti gli altri sono al di sotto di meno 2 quindi meno 2 meno 3 meno 4 eccetera eccetera quindi diciamo al momento fra gli asteroidi noti quindi fra i 25.000 asteroidi near Earth noti non ci sono situazioni particolarmente rischiose ok ma il problema non è costituito tanto dagli asteroidi near Earth noti ma da quelli che non conosciamo che sono la stragrande maggioranza come vi ho detto prima vi ho detto sono 25.000 e ne ha noti ma diversi milioni quelli di cui non conosciamo niente a partire da quelli con diametri piccoli 50 100 metri quelli in grado di provocare un evento simile alla famosa catastrofe di Tunguska avvenuta il 30 giugno 1908 quindi vedete in questa diapositiva una rappresentazione artistica di quello che è successo in quel giorno siamo a Tunguska in Siberia quindi una regione estremamente diciamo così remota 30 giugno 1908 714 locali qui un oggetto di circa 50 60 metri di diametro un asteroide roccioso entra in atmosfera a una velocità stimata di circa 15 km al secondo e inizia a perdere energia cinetica si crea la scia di plasma un'enorme palla di plasma nella testa del superbolide a questo punto che diventa più luminosa del sole e quando arriva a circa 8 km di quota esplode ecco esplode e quindi genera un'onda termica e un'onda d'urto l'onda termica arriva al suolo nella taiga sottostante e incendia gli alberi poi arriva l'onda d'urto che li abbatte al suolo e il risultato sarà una devastazione di 2150 km quadrati di taiga siberiana per fortuna la zona è relativamente disabitata è popolata da tribù nomadi gli evenchi che però diciamo sono veramente poche fate conto la densità di popolazione è come mettere 20.000 persone in una superficie paragonabile a quella dell'Italia quindi non sappiamo esattamente se ci sono state vittime probabile che ci sia stata qualche vittima qualche sfortunato evenco che si trovava nel punto sbagliato al momento sbagliato in realtà abbiamo diversi testimoni sono state raccolte diverse testimonianze fra gli evenchi che ovviamente interpretano a modo loro la catastrofe di Tunguso quindi la retengono una punizione del dio del tuono che ha voluto diciamo punire una tribù per lei diciamo che non si era comportata bene ecco in realtà qui siamo nel 1908 quindi non si conoscono non si conosce l'esistenza dei neo ancora però si sa che possono cadere pietre dal cielo e in effetti un geologo russo Leonid Kulik nel 1927 quindi parecchi anni dopo l'evento 19 anni dopo l'evento organizza la prima spedizione la prima spedizione viene organizzata diciamo in un modo un pochino approssimativo se volete quindi Kulik poi farà meglio nella seconda terza e quarta spedizione cosa cercava Kulik beh avendo raccolto le testimonianze avendo letto i giornali dell'epoca che parlavano di una grande esplosione di una enorme palla di fuoco scesa dal cielo eccetera eccetera lui si aspettava di trovare un gigantesco cratere da impatto e di poter recuperare delle meteoriti in effetti Kulik era stato incaricato dall'Accademia delle Scienze Russe di arricchire la collezione di meteoriti del museo di San Pietroburgo e quindi diciamo il suo compito era setacciare la Russia in lunga e in largo per recuperare i meteoriti e diciamo la descrizione dell'evento di Tungusk del 30 giugno 1908 gli sembrava diciamo l'evento adatto per poter recuperare parecchie meteoriti quindi parecchi frammenti del corpo originale chiaramente la zona è difficile da raggiungere adesso con gli elicotteri eccetera figuratevi ai tempi di Kulik che poteva contare solamente su slitte trainate quindi in qualche modo organizza la prima spedizione e quello che si trova davanti non è quello che si aspetta in effetti si trova davanti la devastazione della taiga e anche dopo una ventina d'anni è ben evidente qui vedete una foto dell'epoca che vi mostra tutti gli alberi abbattuti al suolo vedete che l'abbattimento gli alberi sono paralleli l'uno all'altro i tronchi degli alberi sono paralleli che vuol dire che diciamo l'onda d'urto è arrivata da una ben definita direzione in effetti vedremo che poi l'abbattimento degli alberi ha una simmetria radiale quindi Kulik può identificare l'epicentro dell'esplosione ma in questo epicentro non c'è il cratere ci sono solo una serie di paludi Kulik scava nelle palude quindi con i mezzi dell'epoca eccetera alla ricerca dei frammenti alla ricerca dei meteoriti ma non riesce a trovare niente tutta la sua vita poi morirà in un lager nazista non riuscì a portare al museo di San Pietroburgo un unico singolo piccolo frammento del corpo cosmico che diede origine alla catastrofe di Tunisca ecco parlo di catastrofe perché in effetti l'energia liberata nell'esplosione è stata stimata paragonabile a circa 800 volte l'energia liberata nell'esplosione atomica di Hiroshima quindi e questo era un corpo di 50 60 metri di diametro quindi un oggetto relativamente piccolo d'accordo fosse diciamo invece di cadere in Siberia nella zona di Tunisca fosse caduto in una su una grande città l'avrebbe rasa al suolo quindi vedete che anche un piccolo asteroide di soli 50 60 metri di diametro può cancellare istantaneamente una città di milioni di abitanti senza la necessità di arrivare al suolo ok quindi l'atmosfera assolve il suo compito di protezione ma lo assolve diciamo così in ritardo e se l'oggetto esplode a una decina di chilometri dal suolo l'onda termica e l'onda d'urto sono ugualmente pericolose come diciamo la caduta dell'asteroide e la creazione del cratere ecco chiaramente la catastro di Tunisca è stata diciamo è l'evento più eclatante in tempi storici documentato ma in realtà piccole esplosioni in atmosfera si verificano continuamente vedete questa diapositiva che mostra i risultati del monitoraggio dei satelliti statunitensi che vi fa vedere che le esplosioni in media avvengono una volta ogni 14 giorni qui sono piccoli oggetti piccoli asteroidi di 1, 2, 3, 4 metri di diametro che colpiscono la nostra atmosfera non riescono ad arrivare fino al suolo ma però esplodono a quei 20, 30 chilometri di quota rilasciando un'enorme quantità di energia in atmosfera che viene rilevata dai satelliti militari statunitensi per la sorveglianza ovviamente e non vengono interpretate come lancia infestate nucleari vengono giustamente classificate come esplosioni di bolidi in atmosfera però comunque vedete che la nostra terra subisce un bombardamento continuo semplicemente non ce ne accorgiamo perché la nostra atmosfera ci fa da scudo altrimenti diciamo gli effetti sarebbero ben evidenti ecco in tempi diciamo non non geologici l'evento più interessante è stata la caduta dell'asteroide a Cegliabinsk del 2013 non vi faccio vedere il filmato però lo potete trovare facilmente su youtube ce ne sono decine ecco il risultato qui è stata la caduta di un piccolo asteroide di circa una ventina di 15 20 metri di diametro esploso a circa 30 chilometri dal suolo si è diviso in due frammenti un frammento di circa 600 chilogrammi è stato recuperato a grosso modo a 70 chilometri dalla città russa di Cegliabinsk nel lago Cebarcu che qui vedete in questa diapositiva le fasi del recupero eccetera quindi vedete si trattava di un asteroide roccioso non ci sono state grosse conseguenze quindi non è stata una seconda tubusca perché l'asteroide era più piccolo eccetera però comunque diciamo non era stato scoperto prima dei telescopi al suolo anche se aveva un diametro di una quindicina di metri perché è arrivato dalla parte del sole quando diciamo vi ho parlato prima delle grandi salvi panstars catalina sky salvi eccetera dovete ricordarvi che un telescopio non è onnipotente quindi lo potete usare solo di notte non di giorno ma gli asteroidi possono arrivare anche dal lato diurno quindi quando in cielo c'è il sole il telescopio non lo potete usare se l'asteroide arriva dalla parte del sole chiaramente non potete scoprirlo prima che colpisca il nostro pianeta fosse arrivato dal lato notturno probabilmente l'asteroide di Cegliabist probabilmente sarebbe stato scoperto però diciamo se un asteroide arriva ma è visibile solamente dall'emisfero australe allora anche lì nell'emisfero australe i telescopi per le grandi salvi praticamente non esistono e quindi lì è un punto scoperto diciamo della nostra difesa planetaria contro gli asteroidi quindi vedete che la rete dei telescopi al suolo ha parecchie limitazioni grosso modo si stima che solamente il 30% degli asteroidi potenzialmente diciamo osservabili viene scoperto quindi il 70% non viene rilevato proprio per i motivi di cui vi ho detto ecco lasciamo gli asteroidi con quest'ultima diapositiva vi faccio vedere rapidamente le conseguenze in funzione del diametro quindi per oggetti dell'ordine del metro avete i bolidi di cui adesso vi farò vedere un esempio concreto con il bolide che ha permesso il ritrovamento della meteorite Cavezzo con oggetti fra i 10 metri e i 100 metri potete avere o delle grosse esplosioni in atmosfera come Tunguska oppure la creazione di piccoli crateri da impatto come il Meteor Crater a partire dal chilometro di diametro avete come conseguenze il cambiamento climatico tsunami quindi devastazioni a livello globale a 10 chilometri di diametro avete l'evento dei dinosauri e quindi l'estinzione di massa ecco andiamo a vedere adesso come si recuperano i frammenti più piccoli che gli asteroidi diciamo che nella fascia principale degli asteroidi fa cadere in un certo senso verso il sistema solare interno quindi i piccoli meteoroidi dell'ordine di alcune decine o della decina di centimetri di diametro che quando cadono nell'atmosfera sono completamente innocui danno luogo a un bel bolide quindi a una meteora bella luminosa e il meteoroide si consuma quasi tutto però può succedere se abbastanza coeso e la velocità non è eccessiva che una parte arriva al sole e quindi in questo caso si può andare a caccia di meteorite e quindi si può ritrovare sulla superficie terrestre un frammento proveniente dalla fascia principale direttamente a casa vostra senza bisogno di mandare sotto ovviamente è importante recuperare la meteorite il prima possibile iniziare le analisi il prima possibile per evitare che venga alterata dall'esposizione agli elementi terrestri quindi più la meteorite resta lì e più perde di valore scientifico ecco come si fa allora ad andare a caccia di bolidi e di meteoriti allora la cosa essenziale è riuscire a triangolare la traiettoria del nostro bolide quindi a determinare la quota iniziale la quota finale l'inclinazione della traiettoria sulla superficie terrestre la velocità di questo oggetto e come cambia la velocità lungo la traiettoria per fare questo si usa sostanzialmente il metodo della triangolazione quindi lo stesso metodo che usano i geometri per misurare la distanza fra due punti di cui il secondo punto è inaccessibile si costruisce un triangolo appunto per questo che si chiama triangolazione di cui si misurano la base e due angoli e conoscendo la base e due angoli la trigonometria ci assicura che è possibile calcolare anche gli altri lati del vostro triangolo quindi ricostruire tutti i sei elementi di cui un triangolo è dotato tre angoli e tre lati e quindi potete determinare la distanza di un punto inaccessibile e in questo caso potete determinare la distanza o comunque ricostruire proprio geometricamente la traiettoria del vostro bolide triangolando le osservazioni di almeno due osservatori che vi diano almeno ciascuno due punti del vostro bolide non importa che sia il punto iniziale finale l'importante è che siano due punti appartenenti alla traiettoria seguita dal bolide dal firewall ok dopodiché geometricamente intersecati i piani che passano per l'osservatore e i punti che ha osservato fate così per tutti gli osservatori e alla fine ottenete la traiettoria del bolide come intersezione dei piani che passano per gli osservatori e i punti osservati della traiettoria dell'oggetto ecco detta così sembra facile in realtà matematicamente non è proprio così banale anche perché più osservatori avete è più difficile mettere insieme le osservazioni e ottimizzare la traiettoria in ogni caso la traiettoria di un bolide non è solo la parte visibile quindi non è solo la scia di plasma che voi vedete in cielo che quindi è facilmente identificabile ma c'è anche una parte di volo buio se diciamo il meteoroide sopravvive e arriva al suolo generando la meteorite la parte di volo buio è quella più difficile da studiare perché il il meteoroide in caduta il meteoroide residuo in caduta non lo vedete ovviamente si chiama volo buio per questo perché non lo vedete perché è stato rallentato talmente tanto dall'atmosfera che la sua velocità è scesa al di sotto dei 4-5 km al secondo e quindi non emette più luce non crea più la scia di plasma che l'ha contraddistinto ma scende diciamo ha perso appunto la sua velocità cosmica diciamo così e scende come un corpo lasciato cadere e tocca il suolo in una posizione che dipende fortemente dallo stato dell'atmosfera quindi in particolare dalle intensità e dalla direzione dei venti allora è chiaro che per triangolare un bolide l'occhio nudo è poco adatto perché non ha una precisione sufficiente e anche se avesse la precisione sufficiente per triangolare la traiettoria non sarebbe sufficiente per avere informazioni sulla velocità del meteoroide nell'atmosfera ragion per cui è necessario tappezzare il territorio che volete tenere sotto controllo con una serie di camere all sky quindi in grado di abbracciare con un solo frame l'intera volta celeste ed è quello che è stato fatto con la rete prisma coordinata dall'INAF che attualmente conta 65 camere fra quelle operative in fase di installazione acquisto oppure in manutenzione qui vedete in questa diapositiva una mappa che mostra la distribuzione delle camere prisma in Italia e di fianco nel riquadro vedete che una camera prisma come appare è una specie di barattolo ha le dimensioni di una lattina di birra con all'interno una telecamera dotata di un piccolo obiettivo fisheye coperto da una piccola cupola in plexiglass che ha il compito di proteggere la telecamerina dalle intemperie la telecamerina riprende immagini solamente quando passa qualcosa di luminoso nel campo di vista e riprende a una frequenza di 30 immagini per seconda quindi 30 frame per seconda questa alta frequenza di ripresa è necessaria è il minimo necessario per avere informazioni sulla velocità del bolide quindi nelle immagini prisma il bolide non lo vedete strisciato ma avete singoli fotogrammi che vi mostrano il movimento della testa del bolide prisma è diciamo un clone della rete francese tripon con cui collaboriamo la rete francese tripon ha diciamo lo stesso setup e sono circa un centinaio di camere distribuite in modo più o meno uniforme in tutta la Francia e lo scopo è lo stesso recuperare le meteorite al suolo in conseguenza della caduta di bolidi luminosi questo è l'hardware di una camera prisma avete diciamo la parte ottica che vi ho fatto vedere prima in alto a sinistra in basso avete un piccolo nook un piccolo computer che gestisce la camera e a destra in basso invece avete lo switch di rete che serve per l'alimentazione della camera e la comunicazione via VPN VPN con il server per lo scaricamento dell'immagine ecco questa è un'immagine veniamo adesso al bolide del primo gennaio 2020 quello che ha dato origine alla meteorite Cavezzo è un'immagine ripresa qui dalla camera prisma di Loiano ho montato i singoli fotogrammi in modo che generassero la scia del bolide quindi questa è proprio l'immagine del bolide del primo gennaio 2020 ecco sono state otto le camere prisma che hanno osservato il bolide quindi da diverse località come ad esempio Padova eccetera e quello che abbiamo fatto è stato mettere insieme tutte le misure di posizione della testa del bolide sulla sfera celeste e abbiamo proceduto in questo modo quando dovete analizzare un bolide la triangolazione è solo la prima fase ed è anche la più banale da fare poi c'è il modello dinamico del meteoroide perché volete sapere quanto era grande il meteoroide a che velocità andava che area presentava qual era la velocità con cui è arrivata a colpire l'atmosfera terrestre e la velocità all'intimito e poi non solo ma dovete fare un modello del dark flight un volo buio vi ho detto quando il meteoroide il residuo del meteoroide diminuisce la velocità al di sotto dei 4 km al secolo inizia la fase di volo buio perché non è abbastanza veloce da continuare a creare la scia di plasma e quindi dovete conoscere posizione e velocità nel momento in cui inizia il volo buio e dovete conoscere lo stato dell'atmosfera quindi intensità e direzione del vento perché a seconda dello stato dell'atmosfera vi sposta la posizione al suolo dove cade la meteorite e poi prolungando all'indietro la traiettoria del vostro volide riuscite a ricostruire l'orbita eliocentrica quindi l'orbita che seguiva il meteoroide originario attorno al sole e quindi potete avere indicazioni sulla provenienza di questo meteoroide se si tratta di un meteoroide su orbita cometaria asteroidale o quant'altro ecco nel caso del volide di cavezza del primo gennaio 2020 questo è il risultato della triangolazione i pallini rossi sono la traiettoria seguita dal volide in atmosfera poi avete la proiezione al suolo data da queste righe bianche vedete che siamo fra Reggio Emilia e Mirandola quindi in piena in piena Emilia ok e il risultato della triangolazione è che il volide è arrivato con un'inclinazione di 68 gradi rispetto alla superficie terrestre ha seguito una lunghezza di 59 chilometri e ha avuto una durata di poco meno di 6 secondi ha iniziato a essere osservato dalle camere prisma ad un'altezza di 76 chilometri quindi molto in alto nella stratosfera ed è arrivato a 21.5 chilometri di quota qui è iniziata la fase di volo buio ecco ecco il corpo originario dalle nostre stime risulta di 3 chili e mezzo grosso modo ok quindi fate conto 12-13 centimetri di diantro quindi una piccola palla un'arancia di grosse dimensioni se volete ed è arrivato con una velocità abbastanza bassa 12.8 chilometri al secondo quindi non era velocissimo e questo ha permesso al corpo originario anche se piccolo di sopravvivere in parte fino al suolo quindi qui vedete la fine della traiettoria vedete qui siamo le stelline gialle sono i punti dove a seconda della dimensione poteva essere caduto la meteorite e il doppio circolo rosso invece è la zona effettiva di ritrovamento vedete che questo questo stream field questo campo per la ricerca delle meteorite è curvo non è rettilineo ecco questa curvatura è proprio dovuta all'effetto del vento quindi vedete che il vento è veramente molto importante dovete conoscere lo stato dell'atmosfera altrimenti trovare la meteorite a meno che non sia una cosa di 10-20 chili diventa molto molto complicato questa è la quota del bolide in funzione del tempo e i pallini rossi sono le quote osservate i pallini neri sono le quote che vengono fittate dal modello dinamico del bolide quindi vedete che il fit è molto buono e quindi questo ci dice che il modello del meteoroide che abbiamo fatto riesce a rappresentare bene i dati questa è la curva della velocità in funzione del tempo vedete che i puntini rossi sono molto sparpagliati perché? beh perché è difficile misurare la velocità di un oggetto che si muove a quasi 13 km al secondo anche riprendendo 30 frame al secondo come fanno le camere prisma ok? e quindi diciamo c'è una certa indeterminazione nella velocità più punti della velocità prendete meglio è perché così potete costruire la curva media che vi rappresenta meglio l'andamento del bolide in atmosfera poi ovviamente dovete recuperare i dati atmosferici ma nel caso del bolide di cavezzo siamo ricorsi a un modello atmosferico per ricostruire ad hoc proprio le condizioni dell'atmosfera del profilo dei venti da 30 km di altezza fino al suolo nel momento e nel luogo della caduta del bolide perché altrimenti diciamo così prendere i dati dei radiosondaggi che sono stazioni ce ne sono otti in tutta Italia che sondano all'atmosfera una volta al giorno sarebbe stato troppo impreciso qui vedete l'andamento del profilo dei venti le curve nere e rosse sono la curva nera è il profilo del vento lungo la traiettoria del bolide il profilo rosso è il profilo del vento in senso ortogonale alla traiettoria del bolide quindi vedete che i venti non erano trascurabili ad alta quota attorno ai venti chilometri c'era un vento di settanta chilometri orari a quote più basse attorno ai dieci chilometri questa velocità arrivava a una trentina di chilometri orari in più o in meno contro oppure a favore del movimento del bolide e quindi vedete velocità importanti in piena trocosfera ragion per cui la caduta del meteoroide è stata travagliata nel senso questa vedete è una ricostruzione data proprio dal software che calcola la fase di volo buio vedete che è diciamo rettilineo fino a circa 17-18 chilometri poi la caduta qui è proprio la visione della traiettoria vista di profilo come l'avreste potuto vedere se il bolide fosse stato luminoso vedete che smette di andare avanti e torna indietro torna sui suoi passi quindi cade a circa 1 chilometro e 7 dall'inizio della fase di volo buio quindi non prosegue cadendo in avanti come ci si poteva aspettare poteva finire a circa 3 chilometri di distanza dall'inizio della fase di volo buio in realtà il meteoroide residuo viene spinto all'indietro dai venti dell'atmosfera e se la vedete dall'alto immaginate di poter vedere la traiettoria del bolide guardandola dall'alto quindi il bolide che cade sotto di voi e voi sopra che vi godete lo spettacolo ecco quello che avreste potuto vedere lo 0 indica l'inizio della fase di volo buio resta diciamo rettiline alla traiettoria per un chilometro dopodiché comincia a piegare verso est comincia a piegare verso est e vedete che la caduta è molto molto complessa e se riportate su una mappa e i punti teorici e il punto di ritrovamento vedete che l'accordo è abbastanza buono ok non è perfetto perché non si può tenere conto di tutti i fattori come ad esempio la forma esatta della meteorite poi si è anche spaccata eccetera quindi ci sono diversi fattori che sono un pochino al di fuori del vostro controllo ma comunque l'allineamento è buono ok quindi le stelline gialle rappresentano i punti teorici dove ci si aspetta di trovare meteoriti di diverse dimensioni più è grande la meteorite meno risente del vento e più si trova vicino alla zona teorica che avreste se il meteoroide cadesse in assenza di atmosfera però vedete che gli oggetti più piccoli deviano sensibilmente quindi diciamo lo stream field era molto spostato verso est rispetto a quanto ci si poteva aspettare in un primo momento quindi Prisma lancia un allarme attraverso i media giornali radio tv e quant'altro e diverse persone del posto ascoltano questo appello anche perché abbiamo lanciato un appello anche perché il progetto Prisma è un progetto di citizen science anche non è solo un progetto di ricerca scientifica tutto tondo lo è sì ma vogliamo anche fare partecipare i cittadini alla ricerca scientifica e quindi diciamo abbiamo cercato di coinvolgere anche la popolazione locale alla ricerca della meteorite quindi abbiamo detto insomma la zona interessata dalla caduta è grosso modo fra Rovereto sul Secchia e Disvetro quindi quella fascia lì e il 4 gennaio Davide Gaddi che so che ci sta seguendo ha spasso con il suo cane alla ricerca delle meteorite si trova sull'argine del Secchia che scorre lì vicino e improvvisamente il suo cane la pimba viene attratta da un piccolo frammento oscuro che si trova sulla carreggiata e quindi Davide è incuriosito prende in mano questo frammento si rende conto che è qualcosa di molto diverso dai sassi che si trovano comunemente lì sull'argine del Secchia e poco più avanti trova il frammento più grande nel complesso 52 grammi di meteoriti è una condrite ma è una condrite del tutto particolare ok ha delle proprietà uniche è una meteorite unica nel suo genere non vi anticipo niente perché sta per uscire l'articolo quindi diciamo così non voglio anticiparvi niente però è veramente una meteorite unica nel suo genere poi le ricerche sono proseguite i giorni successivi era la Befana e mi ricordo che mi sono fatto tutto il giorno a cercare piccoli altri frammenti di meteoriti dove poteva essere caduto utilizzando lo Streamfield e però non sono stati ritrovati altri frammenti questa è una foto della zona dove sono stati trovati le due piccole meteorite da una parte avete il secchio dall'altra avete cavezzo eccetera ecco la cosa interessante è che visto che comunque questa è ricerca scientifica abbiamo analizzato per bene la traiettoria del bolide abbiamo scritto un articolo scientifico che è stato accettato per la pubblicazione e proiettando all'indietro la traiettoria del bolide calcolando l'orbita gliocentrica ci siamo resi conto che era molto simile a quella di un asteroide di tipo NEA 2013 VC10 si tratta di un piccolo oggetto di una cinquantina di metri di diametro quindi è un asteroide di classe Tumbuska passatemi il termine e purtroppo però è stato solo osservato per 54 giorni nel 2013 quindi l'orbita è caratterizzata male nel senso che la conosciamo l'orbita ma non sappiamo esattamente dove sia l'asteroide lungo l'orbita che 54 giorni sono pochi un arco di 54 giorni è poco per avere la posizione dell'asteroide nel 2020 a partire dal 2013 sono già passati 7 anni quindi gli errori si trovano però questo asteroide è stato scoperto dalla Catalina Sky Survey che abbiamo visto prima ecco quindi è interessante perché abbiamo anche trovato il molto probabile corpo progenitore della meteorite ok quindi sarà interessante cercare di ritrovare questo asteroide e caratterizzare meglio la sua posizione in modo tale da poterne ottenere uno spettro della superficie per vedere come si accorda con le proprietà della meteorite che vi ripeto sono veramente uniche nel suo genere e chiudo la conferenza con quest'ultima diapositiva che vi fa vedere l'articolo che abbiamo scritto sulla triangolazione del bolide che è stato accettato per la pubblicazione proprio poco tempo fa e che uscirà diciamo nella sua forma definitiva a breve e comunque diciamo vi ricordo che questo evento quindi triangolazione del bolide ricerca al suolo della meteorite ritrovamento della meteorite in seguito alla triangolazione è la prima volta che accade in Italia in Italia sono note circa una quarantina di meteorite che però sono state trovate o per caso o perché sono state viste direttamente cadere mai nessuna nel nostro paese è stata trovata grazie a un processo di triangolazione quindi grazie a un processo mirato di ricerca e quindi questa è la prova che la rete prisma funziona e diciamo aspettiamo i prossimi boldi che speriamo belli luminosi e di dimensioni magari un pochino più massicce per andare alla ricerca di altre meteorite io ho finito vi ringrazio dell'attenzione e se avete qualche domanda diciamo sarò ben contento di rispondere grazie Albino veramente una chiacchierata ricchissima di contenuti hai sicuramente chiarito quasi tutti i dubbi che c'erano è stata veramente appassionante questa serata con te io infatti ti ringrazio a nome di tutti noi del Parco Astronomico Lillio per essere stato qui con noi e averci dato così tante informazioni ne avevamo veramente bisogno e ti passo ti passo le domande allora ci sono alcune domande che hanno fatto durante il tuo durante la tua conferenza allora Michele che tra l'altro fa parte del nostro staff chiedeva quanto dobbiamo temere gli asteroidi e soprattutto perché questi asteroidi che oggi diciamo di cui oggi abbiamo paura non sono diventati dei pianeti beh diciamo le probabilità di collisione con un asteroide importante sono zero perché conosciamo tutti gli asteroidi con diametro superiore al chilometro quindi da quel punto di vista lì siamo tranquilli diciamo da qui a a cento anni che è il range temporale che si può ragionevolmente esplorare per gli asteroidi grossi quindi diametro superiore al chilometro non abbiamo problemi i problemi ci sono con gli asteroidi un pochino più piccoli quindi oggetti di classe tungusca grosso modo quindi un oggetto di 50 metri cade una volta ogni secolo in media d'accordo? ogni qualche centinaio di anni però sono medie quindi impossibile dire quando ci sarà una collisione sappiamo solo che ci sarà sicuramente perché è matematicamente certo però non abbiamo ancora scoperto l'asteroide destinato a collidere con la terra la speranza è di scoprirlo con un congro anticipo e quindi di poter inviare una missione spaziale in grado di modificare la velocità dell'asteroide col tanto che basta per evitare la collisione con la terra e questo è tutto quello che possiamo fare quindi andare avanti con la ricerca scientifica sostenere la ricerca scientifica in campo asteroidale per far sì che il rischio sia il più basso possibile il rischio per la collisione con asteroide però diciamo per gli oggetti noti siamo tranquilli anche per quelli grandi il problema ripeto sono quelli che non conosciamo ancora però statisticamente è un evento abbastanza improbabile questo però non vuol dire che va sottovalutato che diciamo la collisione di un asteroide con la terra è una delle poche catastrofi naturali che possiamo almeno teoricamente evitare e quindi andrebbero evitate se possibile bene benissimo sicuramente quindi hai risposto anche diciamo all'altra domanda che era stata fatta da un altro ascoltatore che chiedeva se gli asteroidi tipo Eros quanto sono grandi e se possono creare dei problemi quindi sostanzialmente hai risposto già a questa domanda qua allora qualcun altro ci chiede informazioni sul progetto Prisma chiedono come si aderisce quali sono i costi da sostenere per l'installazione di una camera Prisma ecco bella domanda questa in effetti l'acquisto della camera è a carico di chi vuole diciamo così entrare a far parte della rete Prisma e sostanzialmente si tratta di una cifra grosso modo attorno ai 2000 euro perché le camere devono essere tutte standardizzate devono avere un certo hardware va installato un certo software e è necessaria la connessione a internet H24 e quindi diciamo così c'è un piccolo investimento iniziale però poi le soddisfazioni ci sono nell'articolo che vi ho fatto vedere prima diciamo non ci sono solo i nomi dello staff di Prisma diciamo per e proprio quelli che fanno i conti che fanno la triangolazione delle traiettorie ma ci sono tutti gli aderenti al progetto Prisma quindi diciamo c'è poi un ritorno in immagine dal punto di vista personale può essere una bella soddisfazione soprattutto se si pensa che si è dato un contributo concreto alla scienza non solo poi i volidi diciamo quelli non eclatanti che sono volidi carini ma che non danno luogo a cadute ripresi dalle singole camere le immagini possono essere utilizzate dai proprietari delle camere per fare vedere il fenomeno oppure per fare pubblicità al proprio osservatorio astronomico eccetera eccetera sempre in accordo con prisma naturalmente però insomma c'è come dire massima collaborazione e massima disponibilità da parte nostra a valorizzare al massimo il lavoro che si può fare con queste camere beh poi da come hai raccontato è pure un bel modo di far partecipare un po' tutti alla ricerca quindi è sicuramente interessante anche questo aspetto quindi di coinvolgere un po' tutti come è successo a Cavezzo Paolo Bacci che tra l'altro salutiamo lui e moltissimi e moltissimi stasera molti dei sassaioli così come si definiscono in maniera molto simpatica italiani erano qui a seguirti quindi la sezione Asteroid Uai stasera i cometari anche quelli le cometerano tutti qui stasera a seguire la conferenza che li salutiamo molto affettosamente Paolo chiedeva sì Paolo chiedeva se quindi il NEA che ha perso la piccola meteorite di Cavezzo è un Rubble Pile è probabile probabile non lo sappiamo in realtà potrebbe essere un Rubble Pile di una cinquantina di metri di diametro ci può stare però comincia a diventare un po' piccolino potrebbe perché nel senso che al di sotto dei 150 metri circa gli asteroidi sono abbastanza piccoli da essere dei pezzi monolitici quindi diciamo il Rubble Pile va dai 150 metri in su grosso modo però potrebbe anche essere che si tratti di un Rubble Pile che ha superato quella che si chiama la spin barrier e quindi ha cominciato a perdere pezzi nello spazio oppure potrebbe essere semplicemente il risultato di una collisione quindi un asteroide più piccolo che ha colpito 2003 BC10 e che ha scagliato alcuni frammenti nello spazio e questi frammenti seguono un'orbita abbastanza simile a quelli dell'asteroide originario del piccolo asteroide originario e diciamo non identica ma comunque abbastanza riconoscibile e quindi potrebbe anche essere un meccanismo di questo tipo in effetti per dirlo bisognerebbe ritrovare l'asteroide 2013 BC10 e farne la curva di luce per vedere il periodo di rotazione e vedere se è al limite della spin barrier che sono circa un paio d'ore oppure se invece ha un periodo di rotazione superiore allora in questo caso o inferiore allora in questo caso se l'avesse non so un periodo di rotazione di mezz'ora allora sarebbe un blocco monolitico e quindi probabilmente il meccanismo di espulsione sarebbe la collisione invece che la disgregazione rotazionale sono ipotesi che andrebbero verificate con l'osservazione sul campo bene Paolo Fini invece chiede con un'acquisizione più lunga e quindi una strisciata non si riesce a ricostruire ugualmente una triangolazione efficace? Sì per quanto riguarda la triangolazione geometrica nel senso quota iniziale quota finale lunghezza della traiettoria eccetera il problema è che non hai la velocità perché a te serve la velocità istante per istante lungo la traiettoria non ti serve la velocità media non ce ne facciamo niente della velocità media a noi serve sapere la velocità istante per istante del bolide quindi è per questo che le camere prisma riprendono a 30 frame al secondo perché in questo modo abbiamo 30 misure di velocità ogni secondo che passa che non sono mai abbastanza perché vedete avete visto prima che i dati sono molto dispersi sono molto rumorosi per le inevitabili errori temporali delle camere e quindi più punti ci sono e meglio è ma ci serve proprio la curva di velocità per poter fittare un modello dinamico del meteoroide bene questa invece è una mia domanda hai parlato prima ovviamente delle survey così come dell'importanza anche degli astrofili di poter appunto aiutare i professionisti ma ormai con tutte le survey che ci sono in giro ai astrofili cosa rimane visto che la scoperta ormai è quasi del tutto impossibile la scoperta è quasi del tutto impossibile se non si ricorre a qualche tecnica particolare eccetera eccetera però voglio dire anche le survey possono avere cielo nuvoloso o cose del genere e in ogni caso non sempre possono seguire gli asteroidi che scoprono e quindi diciamo gli astrofili sono importantissimi proprio per questo contributo di rafforzamento delle per il contributo che danno all'astrometria per il calcolo delle orbite per la conferma degli oggetti le grandi survey sarebbero in un certo senso sprecate se perdessero tempo a fare astrometria precisa per determinare l'orbita cioè loro scoprono e buttano nel secchio e poi sono gli altri che vanno a vedere se nel secchio ci sono delle perle o ci sono dei sassi quindi direi che è un contributo molto importante che non va assolutamente sottovalutato anzi è sempre poco riconosciuto questo contributo degli astrofili alla ricerca scientifica nel campo dei neo alla determinazione delle orbite ma è un patrimonio che non deve assolutamente essere disperso anche perché è un modo per far sì che il mondo della ricerca scientifica sia sul territorio non ci devono essere solo le università i grossi centri di ricerca che fanno ricerca scientifica ma la scienza deve essere patrimonio di tutti ed è un patrimonio dell'umanità e quindi nessuna scienza come l'astronomia è così democratica da questo punto di vista ed è bene che continui a restare così quindi anche il piccolo contributo che uno può dare con il suo telescopio amatoriale ben venga perché è così che si mantiene viva la fiaccola della scienza e della ricerca scientifica non possiamo che non essere non d'accordo di più con te con queste ultime parole che hai detto poi ci tengo a sottolinearlo sicuramente lo sappiamo tutti bene gli astrofi italiani forse sono tra i più bravi al mondo in questi campi di ricerca e sappiamo le tantissime pubblicazioni scientifiche che vengono fatte a cui possono accedere quindi chiunque è giusto forse l'astronomia l'hai detto bene è una delle scienze più democratiche in assoluto perché basta un po' di buona volontà quindi si può veramente ottenere tantissimo quindi partecipare a delle scoperte scientifiche abbiamo un'ultima domanda dopodiché ti lasciamo sempre con Corrado Pino chiede con l'introduzione della rete Shimlink questa quanto compromette no forse voleva dire scusate Skylink questa quanto compromette ricerca e misura astrometrica degli asteroidi di NEO questa l'ho letta in diretta ecco questa è difficilmente quantificabile al momento non ti so dire esattamente quanto possa compromettere che possa dare fastidio è possibile specie se hai un telescopio con un grande campo di vista perché ovviamente ti riprovi nel campo di vista tutta una serie di tracce che sono oscure specialmente se osservi subito dopo il tramonto poco prima dell'alba quando i satelliti sono illuminati dai raggi del sole e quindi quando passano nel campo di vista del telescopio te li ritrovi ragion per cui avevo fatto una stima qualche tempo fa su quanti satelliti potessero essere visibili nel campo del telescopio fly high quello che verrà installato a Esnello nelle Madonie vicino al paese di Esnello nelle Madonie sul monte Mufara ed erano diversi satelliti attorno subito dopo il tramonto poco prima dell'alba quindi possono dare sicuramente dei segnali scuri che ovviamente il software dovrà pensare a cancellare quindi certo è improbabile che diciamo la sfida del satellite passi esattamente sul NEA che tu stavi cercando di scoprire però teoricamente può succedere ed è sicuramente un fastidio perché è un rumore di fondo che possono dare questi oggetti ragion per cui bisognerà scendere a ragionevoli compromessi quindi bisognerà studiare il modo per renderli meno riflettenti possibili sicuramente sicuramente ancora non è non è un problema ma lo può diventare tra qualche anno quando ci saranno anche quelli di Amazon quelli di vabbè poi arriveranno a pieno regime quelli sempre gli Starlink ma come dicevi tu sicuramente bisogna essere un po' sfortunati ad avere proprio il NEA sul cioè il il satellite che passa è sicuramente un rumore di fondo un rumore di fondo in piena notte a meno perché comunque i satelliti sono nel cono d'ombra terrestre quindi ok però dopo il tramonte prima dell'alba quando uno può andare alla ricerca di asteroidi che non si allontanano mai angolarmente dal suolo oppure che provengono dal lato di urna che quelli possono essere importanti da scoprire per tempo ecco lì potrebbero dare veramente fastidio però ancora è difficilmente quantificabile la cosa si pare che stiano cercando di mitigare questa questo rumore ma i risultati non sono così come spera esatto l'albero non riescono non riescono va bene e mas che si fermerà per i poveri astronomi che vogliono ridurre il rischio l'impatto asteroidi non credo anzi sta progettando tra l'altro oggi non so se non so se hai sentito la notizia tra l'altro oggi non so se hai sentito la notizia è definitivamente collassato il radio telescopio di Arecibo si dava un grosso contributo allo studio degli asteroidi esatto esatto e questo adesso ci resta solamente l'altro il radio telescopio da 60 metri e Arecibo con i suoi 300 metri dava un bel contributo aveva una bella sensibilità anche se aveva diciamo non poteva essere orientato in tutte le direzioni ma comunque ha dato un grosso contributo nel campo dell'astronomia asteroidale già ok Albino noi ti ringraziamo ancora una volta per la tua disponibilità per la tua pazienza sei stato veramente come già ti ho detto molto esaustivo sono veramente molto contento di aver fatto di averti avuto come ospite quindi io e così come tutti noi dello staff del parco astronomico Lilio saluto tutti quanti ti porto anche i complimenti che ce ne sono veramente tantissimi scritti tra i commenti poi magari se vuoi te li puoi andare pure a leggere li rispondi tu perché altrimenti a nominarli tutti sarebbe non chiudiamo più ricordo a tutti quanti che giovedì ci sarà l'appuntamento con la professoressa Sandra Savaio che ci parlerà anche lei di un argomento molto interessante quindi vi aspetto giovedì sera sempre alle 21 e quindi saluto tutti vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì buonanotte grazie buonanotte